Iniziamo questa serie di difficilissime trasferte sul campo del Real Madrid, una squadra che era già dotatissima di molto talento, soprattutto di grande capacità di produzione di punti con molti giocatori che segnano canestri facilmente in tutte le posizioni e che si è ulteriormente rinforzata con due grandissimi come Rudy Fernandez e Sergi Bacca. Per noi, indipendentemente dall'aspetto rivale e risultato, sarà un'occasione importante per fare un passo avanti nella maturità con cui giochiamo fuori casa, nel controllo dei nervi, nella capacità di superare i momenti difficili di squadra e soprattutto nel controllo delle palle perse che, giocando contro il Real Madrid, che è uno dei giochi in campo aperto più efficaci e aggressivi di tutta la competizione, saranno decisive per dargli meno possibilità di attaccare in campo aperto possibile.